E' stato presentato in Sala Giunta il Piano del Comune in materia di efficientamento energetico, appalto aggiudicato dal 2017 alla società Sitalum, che prevede lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica per un importo di circa 62 milioni di euro. Tra gli interventi avviati in primo luogo nelle aree di periferia, la sostituzione di 60 mila punti luce con apparecchi a LED e l'implementazione di 5 gallerie cittadine con tecnologie smart. Nel primo anno e mezzo di lavoro facciamo seguito a quella conferenza stampa di oltre un anno e mezzo fa che illustrava il nuovo piano di efficientamento energetico della città. Abbiamo fatto molto, siamo partiti dalle periferie che era il nostro obiettivo. L'anno 2019 sarà l'anno che ci vedrà finalmente affarciarci anche al centro della città e toccare tutti i quartieri e tutte le municipalità. Insomma, è un lavoro che va avanti con grande serietà, senza nessun problema. Siamo riusciti a fare la galleria Vittoria, faremo le altre due gallerie, andremo a illuminare gli assi stradali più importanti. Insomma, daremo segnali tangibili di questo importante lavoro che abbiamo iniziato a fare. Risparmio, sicurezza, adeguamento normativo e implementazione delle smart city sono gli obiettivi del piano che già dal primo anno consentirà una riduzione di circa un milione sulle spese di gestione e che una volta al regime abbatterà fino a 4 milioni e mezzo i costi di energia e di 2 milioni le spese di manutenzione. Abbiamo illustrato i lavori fatti, quelli che si stanno facendo e quelli che si faranno, su un grosso investimento sull'illuminazione dell'intera città di Napoli, più illuminazione, più risparmio energetico, meno risorse economiche, più sicurezza, più tecnologia, più qualità della vita, più decoro. Insomma, l'azienda che sta facendo i lavori ha detto che siamo la prima città in Italia a mettere in campo un investimento di questa portata e di questa grandezza e di questa innovazione tecnologica. Ne siamo fieri, ovviamente cerchiamo di essere i più rapidi possibili nel completare il lavoro e di farlo nel miglior modo possibile.